Un applauso a Teresa! E' uno pure a Calentini! Ismaele, una domanda. Cosa rimpiangi del passato e che cosa ti auguri per il futuro? Dovrei stare qua tre ore, per il passato e per il futuro. Due idee del passato e due per il futuro. Due idee del passato che mi rimpiango, vediamo un po', non mi vengono, facciamo quelle del futuro. Due idee che diciamo come prospettiva, come aspettativa, diciamo è quella di laurearmi e poi quella di sposarmi, perché no? Sì, sposarmi. Non è il 2010, è il 2015, non so quando ti augurrà, però queste diciamo... Quando ti ricordi per il passato, mi chiami.